Testi sacri. Perché i testi sacri non parlano di medianità? Commento. Perché, secondo la cultura religiosa vetero-testamentaria, le evocazioni erano un peccato talmente grave da meritare la morte. Levitico 19,26b, 19,31, Geremia 29,89. Per questo i testi sacri non specificano la dinamica della prassi evocatoria, fatta eccezione per l'episodio che vede come protagonista il re Saul, la negromante di Endor e lo spirito di Samuele. 1 Samuele, 28,711. L'episodio merita di essere riportato per intero. Endor, che significa fonte di Dor, era un villaggio appartenente alla tribù di Manasse, nel quale si trovava una donna pratica di negromanzia. Saul si recò da lei per interrogarla sul futuro e farsi evocare lo spirito di Samuele. Il testo biblico recita. Disse perciò Saula e i suoi servitori. «Cercatemi una donna data alla negromanzia, che voglio andare a consultarla». Gli risposero i suoi servitori. «Ecco in Endor una donna pratica di negromanzia». Disse la donna, «Cicchiò da evocare». Rispose, «Evochami Samuele». Rispose, «Cicchiò da evocare». Rispose, «Cicchiò da evocare». Rispose, «Cicchiò da evocare».